Domenica 13 di novembre ci risiamo. Un'altra puntata di Rennes e Benessere. Toscani Camp, questa volta siamo stati nella zona di Siena, racconteremo alcune interviste che abbiamo fatto lì con Alessandra Cozzi che ci ha dato una mano e insieme al montaggio, come sempre, a cura di Linda Betti. Questi ragazzi che si stanno allenando insieme a Giuseppe Giambrone che è il tecnico che segue, da ora ufficialmente anche Stefano Rosa e tanti altri ragazzi, personaggi che vanno per la maggiore. Tutti stanno preparando, almeno in quelle zone, i prossimi campionati europei che si disputeranno in Sardegna quest'anno il prossimo 11 di dicembre. Oggi molti di voi avete sicuramente corso anche la mezza maratona di Livorno, qualcuno ha corso anche alle Treville a Firenze per rimanere nell'ambito nostro qui della zona della Toscana e non solo. Però sicuramente in tanti di altri di voi che ci seguite magari via internet avranno corso da qualche altra parte. Bene, andiamo a sentire a questo punto cosa ci ha detto prima Giuseppe Giambrone che è il tecnico il responsabile del Toscani Camp e poi andiamo a sentire cosa ci ha raccontato, come si sta allenando, come si sta ripreparando Stefano La Rosa, il maratoneta di Grosseto, faceva parte della nazionale italiana alle Olimpiadi di Rio, è ripartito proprio lì da San Rocca Pilli nella zona di Siena e quindi prima Giuseppe Giambrone, l'allenatore responsabile del camp e poi sentiamo Stefano La Rosa. Siamo qui al Toscani Camp con Giuseppe Giambrone. Senti, vieni tutto o come stai? Ci lamentiamo che è tutto bene, dai. Vedo che stai lavorando tanto, sono arrivato qui, ho visto tanti atleti che stanno girando qui in questi giorni da te in questi periodi, giusto? Diciamo che il lavoro non manca, nel senso che si sta facendo un periodo di lavoro di base, la preparazione invernale e con molto piacere abbiamo qui ospite anche dei ragazzi italiani, e sono contento di questa cosa. Si sta formando un bel gruppo anche di lavoro di team, di collaborazione anche tra medici, fisioterapisti e poi allenatori. Insomma, è la cosa che mi sta piacendo molto è anche la collaborazione tra allenatori, tra me, Briana, l'allenatore di Riva, l'allenatore di Geratana. Quindi si sta lavorando in gruppo e ci si sta confrontando. E questa cosa è quello che mi auspicavo io, anche a livello di collaborazione, di interscambio di idee e anche di visioni dell'allenamento. Siamo nel tuo sogno iniziale, quando è nato dentro di te questo progetto anche, giusto? Eh sì, perché comunque è un momento di crescita per tutti, insomma. Il confronto può portare sicuramente un bene all'atleta e comunque al movimento in generale. In questo periodo in particolare questi ragazzi che sono da te stanno preparando, che cosa stanno preparando? Sì, stanno preparando, ognuno ha i suoi obiettivi, c'è chi prepara la maratona, chi cross. Per gli ugandesi prevalentemente c'è l'obiettivo dei mondiali che saranno in Uganda, quindi ci tengono particolarmente perché è un evento storico. Per loro è comunque fondamentale questo evento perché è proprio in casa, quindi lo sentono come proprio, insomma. E poi, vabbè, la maratona, c'è stato Robert Cemongius, si è migliorato domenica, ha fatto due ore 11.04 a Lubiana, anche se purtroppo io mi aspettavo molto meglio, sinceramente. E' un allenatore, mi sembra. No, perché comunque i dati davano risultati migliori, però purtroppo in gara ho avuto un problema al 27esimo chilometro dietro al bicipite femorale e quindi ha potuto finire la gara con questo dolore e quindi l'ha limitato molto nella prestazione, insomma. Però comunque sono contento, insomma, ugualmente. Il personale è sempre personale, insomma. Senti, visto che mi parlavi che sta nascendo appunto questa collaborazione anche con gli allenatori e gli altri ragazzi, se un amatore, un atleta amatore oppure un allenatore che gestisce più atleti volesse venire qua e collaborare con te, come deve fare? Qual è il canale più veloce? Niente, basta che ci contattano o mi contattano, insomma, anzi saranno ben accetti. E i gruppi, ora per esempio c'è stato un gruppo di giapponesi, si è iniziato questo rapporto con il Giappone. Di atleti giapponesi? Di atleti giapponesi, sì, di amatori giapponesi, insomma, per il momento amatore. E quindi diciamo, ecco, questo è aperto a tutti, poi comunque qui c'è un albergo, quindi non è che, insomma, è una casa privata, quindi comunque chi vuole trova un alloggio, trova un ristorante, quindi c'è tutto. Quindi ti possono cercare sul sito, tramite Facebook, basta che guardano Tuscany Camp, training camp, giusto? Sì, Facebook è Tuscany Training Camp e il sito è www.tuscanycamp.com. Ora anche stiamo sperimentando delle metodiche anche un po' particolari, anche di allenamento, che insieme al professor Bonifazio, comunque ai medici, all'ortopedico, ai fisioterapisti, stiamo mettendo a punto anche con dei protocolli innovativi e anche scientifici, insomma, ecco, questa collaborazione con i medici mi piace molto a me, questa specie di, diciamo, di lavoro in gruppo. E che secondo me sta portando dei buoni risultati, cioè vedo un grande riscontro nei ragazzi, insomma, sia italiani che straniere, insomma. Ecco, quindi, e anche negli allenatori a cui io l'ho proposto all'inizio sono un po' scettici, però ora stanno piano piano vedendo se, anche io sinceramente ero un po' scettico all'inizio quando me l'hanno proposto, di cercare di lavorare in questo modo. Invece effettivamente... Porto buoni risultati. Senti, allora noi sollecitiamo gli altri allenatori, i gruppi di amatori, di venire a provare questo ambiente nuovo. Grazie. Grazie a voi. Stefano Larosa, qui al Tuscany Camp. Raccontaci come l'hai conosciuto, da quando è nata l'amicizia con questo bellissimo posto. Ma io posso dire di essere uno dei primi a aver fatto parte del Tuscany due anni fa, quando Giuseppe mi chiamò al telefono per dirmi se volevo far parte di questa nuova squadra che stava nascendo. Ero all'inizio un po' titubante. Poi ho conosciuto Giuseppe, ho cominciato a venire qui a fare diversi allenamenti con i ragazzi ugandesi e mi sono trovato subito a mio agio. E' nato veramente un bel rapporto e posso dire oggi che mi trovo veramente bene e posso solo che ringraziare Giuseppe e il Tuscany. Quindi qui, oltre ad abbinare il contorno, il paesaggio, i luoghi perfetti per allenarsi, la cosa bella è che ti puoi allenare con questi compagni di squadra che sono poi diventati anche amici, anche se non sono tue connazionali, giusto? Ma sicuramente sono dei ragazzi eccezionali, è bello condividere la fatica insieme a loro, più ci sono anche ragazzi della nazionale italiana che vengono qui a fare degli stage, qui si sta bene, c'è una bella armonia e fare chilometri in compagnia si sente meno la fatica. C'è sempre qualcuno di passaggio insomma? Sì, sì, c'è sempre qualcuno di passaggio che ci viene a trovare e questo ci fa molto piacere e più gli allenamenti diciamo che diventano più facili perché il gruppo fa veramente la differenza. E in questo periodo che cosa stai preparando se ce lo puoi dire? Ma io dopo la maratona olimpica ho recuperato quell'infortunio che ho avuto purtroppo e quindi adesso posso dire di averlo superato, mi sto allenando con tranquillità, farò qualche corsa campeste ma in previsione di una maratona futura che farò a febbraio-marzo. Quindi ancora la maratona è rimasta praticamente nei tuoi, diciamo ormai fa parte di te la maratona, giusto? Sì, sì, io voglio continuare su quella direzione quindi ho già in mente più o meno il periodo in cui farò la maratona e sto preparando già per quell'appuntamento. Allora senti in bocca al lupo e speriamo di sentire presto di te, ok? Grazie, grazie. Bene, abbiamo sentito sia Giuseppe che Stefano raccontarci un po' le loro impressioni su come si vive, su come si sta nella zona lì del camp. Siamo a San Roccapilli nella zona 10 km più o meno da Siena e adesso andiamo a sentire altri due atleti che si stanno allenando lì in quelle zone, stanno preparando al meglio i loro prossimi appuntamenti che ripeto i primi appuntamenti per i nostri atleti che abbiamo intervistato sono sicuramente i campionati europei, molti di loro, quelli che andremo a sentire, proveranno a entrare nella Nazionale Azzurra che il prossimo 11 di dicembre correrà sui campi, sui campestre della zona della Sardegna. Ci sarà a Chia, ci saranno questi campionati europei. Andremo a sentire prima Marco Salami che ormai è un nostro amico che spesso lo ritroviamo lì al camp e poi andremo a sentire anche Giorgio Shalabba. Questi due atleti ci racconteranno le loro esperienze lì al camp e ci parleranno un po' di come stanno preparando al meglio. Noi con voi ci rivedremo le prossime settimane, come sempre la domenica. Ringrazio Alessandra Cozzi che ha curato tutte le quattro interviste e ringrazio anche Linda Betti che ha curato il montaggio. Marco Salami, siamo al Tuscani Camp. Volevo chiederti, da quanto tempo vieni qui ad allenarti? Io ormai sono quasi tre anni che vengo al Tuscani Camp, da quando Giuseppe Giambrone ha deciso di partire con questo progetto. Io e Stefano Larosa siamo stati i primi italiani ad aggregarci a questo gruppo di ugandesi, veramente forti e qualificati. Dopodiché si aggiungono anche i percorsi che sono veramente suggestivi, allenanti e ti fanno fare la differenza in gara. Quindi circa un paio d'anni, diciamo che vengo qui. E quindi periodicamente, a seconda delle gare che tu devi preparare, vieni qui e stai un po' di tempo qua con loro? Sì, sì, vengo qui, faccio un ciclo di lavoro che può essere dalle tre settimane alle quattro settimane, dove insomma impari anche a capire come si corre veramente forte. Perché devi rompere degli schemi mentali stando con loro, quindi buttarvi al Garmin, capire che non bisogna guardare sempre il cronometro, ma gestire le situazioni in momento di difficoltà. È un posto ideale se si vuol fare il salto di qualità. Bello questo che tu hai detto, quindi imparare a correre in modo libero, cosa che invece noi podisti, dico noi, perché io sono una di quelle che quando parte e esce di casa, se non ce l'ha acceso non è contenta, vuole vedere a quanto va, quando ha finito e così via, giusto? Sì, praticamente è questo, è molto difficile inizialmente, perché anche io, Stefano, le prime volte quando Giuseppe ci diceva che bisogna andare in questi percorsi duri, non guardate l'orologio, insomma sono schemi che vanno rotti. Se si impara a rompere gli schemi ogni tanto e avendo la nostra mentalità ordinata si può contrastare anche i ragazzi keniani, ugandesi, burundiani. Bello questo, cioè si impara sempre tanto da voi, eh? Una cosa, come stai e che cosa stai preparando? Sei qui per quale motivo ora? Io sto preparando i campionati europei di corsa campestre che si terranno in Italia e ci saranno le due selezioni domenica prossima al cross della Carsolina Trieste e l'altro si svolgerà a Osimo il 27 e quindi se entreremo in squadra sto preparando il campionato europeo a Chia. Giorgio Sarabba al Tuscany Camp, come l'hai conosciuto? Allora io intanto sono un quasi compaesano di Giuseppe Giambrone perché viviamo in un paesino, due paesini vicini e quindi lo conosco fin dalla nascita di questo progetto e ho sempre creduto nella bellezza di questi percorsi, di questi posti e anche nel suo progetto perché ha portato qui gente che ha corso anche alle Olimpiadi. Devo dire che mi trovo davvero bene anche a correre insieme agli altri, dei nuovi stimoli su dei percorsi diciamo adatti a quello che stiamo preparando adesso, il periodo dei cross diciamo. Quindi è la prima volta che tu vieni qui nonostante tu lo conosca da più tempo? Sì per impegni di lavoro sono riuscito a venire due settimane fa e ho fatto un periodo di due settimane, adesso spero di tornare spesso nei weekend oppure nei periodi di ferie dal lavoro. Tu sei in un periodo di recupero mi sembra di aver capito o hai quasi già recuperato? Sì diciamo che la settimana scorsa o qui grazie al centro medico sono riuscito a recuperare da un infortunio, da un polpaccio, da una contrattura e adesso da tre giorni ho ripreso, sono tornato qui a fare gli ultimi, la rifinitura per la gara di settimana prossima. Chi sarà? E' una delle selezioni per gli europei di cross vicino Trieste. Quindi insomma un bel impegno. Sì diciamo che non ho grandissime presunzioni di entrare in squadra però mi piacerebbe iniziare bene la stagione dei cross in vista dell'anno prossimo, il cross del campaccio, dei regionali qui in Toscana. Senti cosa mi dici di allenarsi qua insieme a ragazzi che sono sia ogni tanto c'è di passaggio qualche diciamo compagno della tua nazionalità ma poi ti alleni anche con atleti che sono stranieri no? Quindi com'è? E' la stessa cosa? Allora una cosa molto positiva devo dire che io ho anche vissuto insieme a loro nel senso che abbiamo anche cenato, pranzato insieme, ho conosciuto le loro culture, i loro piatti e quindi devo dire che da questo punto di vista c'è una grande condivisione, anche la condivisione della fatica, l'allenamento è importante. Poi conosci anche persone di altre culture e di altre tradizioni. Senti noi ti facciamo in bocca al lupo per il tuo impegno futuro e per anche quegli altri, ok? Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao.